Ben ritrovati, JoboPipe YouTube, oggi in mano ho Henrymore Balcan, una English Mixture di tutto rispetto, composizione Virginia, orientali e Latakia, e se volete sapere com'è questo tabacco, vi invito ad andare sul forum ADFL, leggere la descrizione che ha dato tente Paolo Arzioni, che saluto, ciao Paolo, un ragazzo, un grandissimo fumatore appassionato, che ho conosciuto tramite Ugo Mazzarella in occasione di Cagli, quando ho preso la sua prima Titan, e alla fine ha voluto regalarne una anche a Paolo, il suo amicone, il fratellone lo chiama, e comunque parlando di questo tabacco, quello che scrive Paolo è praticamente la Bibbia, sono le stesse emozioni che ho provato io fumandolo nella mia Titan, non in quella, ma attenzione, sì, la differenza che c'è tra una Titan no filtro e una Titan col filtro infumata con l'Herrymore Balcan, una volta era Mixture, adesso no, solo l'Herrymore Balcan, è che il filtro, vada ben, vada ben, vada ben, vada ben, valorizza di più questo tabacco. Vi posso assicurare, garantire, sottoscrivere che, come ha scritto Paolo nel suo commento, che vi ripeto è una Bibbia, quello l'ha descritto proprio alla perfezione, stesse emozioni, stesse, cioè, uguale, fumato in Titan senza filtro, ho provato quello che Paolo ha scritto, sottoscrivo, con il filtro escono fuori i Virginia, che è un elemento che purtroppo soffre in questa English Mixture, escono fuori questi Virginia, che vengono, il filtro viene a riequilibrare tutte e tre le componenti dei tabacchi in una maniera afrodisiaca, col filtro è un tabacco tra i miei preferiti, e col filtro ci ho fatto una fumata e mezzo, ma mi piace da matti. Era buono anche senza, eh? A 16 euro facilmente reperibile, oro che cola, ma col filtro, amici miei, se lo fumate, se lo provate col filtro, mamma mia, cioè, l'ho finita, lo stavo finendo adesso, ho detto adesso vado a fare il video, che ancora c'ho la faccia di uno che gode, perché ne vale assolutamente la pena, cioè, costa poco, costa il giusto, è in latta, però è, allora, dovrei descrivervelo, ma sarebbe totalmente inutile, leggete quello che ha scritto Paolo, vi lascio il link in descrizione, così andrete a leggere della sua descrizione, anzi, faccio copy and call, e nel primo commento vi metto la sua descrizione, che è da Bibbia, ma lui non l'ha fumato col filtro, ecco il filtro, po 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 pooo. Ce n'è un po' di amici che hanno il modello col filtro, e a voi vi consiglio di fumarlo col filtro, fatelo.